L'Aggiunta Comunale ha approvato ieri con delibera 42 le tariffe della Tari di quest'anno che è stata sensibilmente ridotta sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. L'attuazione degli interventi effettuati sul piano economico-finanziario, hanno sottolineato gli assessori Fran Giamone e Camizzi, prevede un'azione sinergica che ha reso gli assessori soddisfatti per il lavoro che hanno condotto e che dicono assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati e che contrasterà concretamente l'evasione grazie alla mappatura e al censimento delle utenze inserendo quelle mancanti e bonificando la banca dati dei contribuenti di ambedue le categorie. Le tariffe che abbiamo approvato in Giunta Comunale per l'anno 2022 hanno delle importanti novità tra cui una cospicua riduzione delle tariffe sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. C'è inoltre un'attività sinergica che è stata fatta tra i vari assessorati, quello di cui mi occupo io dell'ambiente, l'assessorato ai tributi della dottoressa Luciana Camizzi e quello delle politiche sociali della collega Cettina Andaloro. Con lei abbiamo messo a punto un'importante azione per quanto riguarda una sostanziale riduzione per le famiglie disagiate. Tutte queste novità, tutte queste riduzioni sono arrivate grazie a un'attenta analisi di quello che è il piano economico e finanziario, grazie al fatto che abbiamo contratto le spese generiche del servizio di raccolta e smaltimento e anche un'importante azione per il controllo dell'evasione che c'era in passato. Sinergia quindi tra i tre assessorati che ha condotto ai risultati che si potranno vedere e valutare già da quest'anno.